benvenuti al nuovissimo famo il piano se no parto a cannone fabrizio lasmetti ma cosa ti prendi cosa c'hai oggi guarda una cosa veramente indescrivibile allora amici non staccatevi da lì guardate la trasmissione e scrivete i vostri commentini proprio ecco così immediatamente allora amici questo è il nostro sommario e mi raccomando seguiteci scriveteci messaggi anche a me sono partito quando c'è un po' di me dai tu hai bevuto troppo che siete ostia quindi sono una cozza stiamo esagerando a me mi ammazzano è tutto quello che è un inizio anche un finizio benvenuti ma poi questo break estivo alla fine con tutti i spasimanti ai qualiato sì ma mi sono lasciata quando in quei giorni lì non ho detto no ma allora alla fine con questa pausa estiva hai trovato l'anima tante dediche la dedica più bella vincerà un premio ma basta con sta scusa devi sempre troppo un buon partito ma partito il ponte facciamo qui fabrizio fabrizio ciao ci si incontra dopo una notte passata ai punti che c'era che c'era che c'era una volta scorsa tennis vintage tennis vintage stavo per dire la notte passata deve informarti meglio ho pensato ai suoi che pensavo dove rispondi bruz no 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 perché fanno musica bish bruz navra astramat smrevras te che leggono cosa cioè sei visita visita a racchett non cosa vuoi dire l'anguese eeeeh cioè tu giochi a tennis sì più gioiosa eh benvenuti un po' più gioiote bene comunque vabbè questa è no ma che premiazione no siamo qua a fare un servizio quella premiazione Poi di chi è premazione? Poi questo neanche tu, l'ho scritto Oscar Infatti l'ho scritto... Dico io tanto e poi tu parti Come ti chiami? Martina Come mia nipote che si chiama Francesca Ehi, ah, che nipote! E' lei, pure te! E poi si chiama Marca Ce sei? E' lei, pure te!